Venezia, settimana della critica, un film targato Friuli Venezia Giulia, un bel film? Un film emozionante, io direi che è un film davvero che può fare grandi numeri ed è un film che promuove il territorio del Friuli Venezia Giulia in modo pieno, a 360 gradi con i suoi attori, il suo regista, con la fotografia migliore del nord-est e soprattutto è un nord-est che si apre alla Slovenia e si apre superi confini. Quindi ancora una volta la cultura è patrimonio di questo territorio da mettere quasi a frutto per tutto il paese. Come ha detto il direttore generale Borrelli si tratta di un'industria e di una cultura, vanno tenute insieme perché significa investire, significa fare cultura ma fare anche tanta economia per i nostri territori.